Siamo avanti, ho visto che c'è un banco di lavoro, Bentwood Seaworth Eccolo qua Altro da prendere, non mi sembra Sì, qua Modifica a fulgurante a distanza Queste? Può essere? Sì Però prima voglio fare, nemmeno che posso adesso Che coglioni, mi mancano qui Vabbè allora facciamo questo Ok Ok Qua ho messo massacro ma Tra 68 Con questa Guarda mi dice Allora, impatto elevato Qua non Qua non posso neanche modificarla Qua ho fatto tutto Qua c'è già tutto Riprestiamo quel pezzettino che ho perso A posto Ruben, è io Tuoi favorito? Sì, vai Cambia di un plan Sto volendo solo O spavendo solo In questo caso Tras le sezioni Eh, le sezioni? Ding 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 Operazione Operazione Knee deep through shite Maybe rough But better than Moshin through the horns up top I hope you're right When you reach Santa Monica Head for the sterling hotel On ocean avenue Ok Oh madonna Adesso ci sono quelli che esplodono Ma Ok Ok Boomer Back it up Oh What? I blew the caps Clean off Oh madonna Sono nell'acqua È vero? Cazzo Devo stare attento Cosa c'è qua? Stoffa Ok Ok Però voglio un attimo Da qua Bloccato Non è bloccato Apparentemente Un sistema di gestione di hydrostatico Con magica E' chiaro Se posso trovare Cos'è? Non posso entrare nell'acqua adesso Qua cosa c'è? Cazzo Bloccato Io quello lo voglio Dieci Che palle ho Ah cazzo Manca il valvolo Del tubo d'acqua Non è che girando questo Si stacca Boh Oh porca cazzozza Vabbè facciamo così Leva tubo d'acqua Vabbè mettiamo il tubo qua Ma come l'ho preso? Non l'ho preso Ah Ora questo Quindi 30 È arrivato a 45 20 30 30 Ah 45 Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ah solo questo Scusa Ok Cazzo era uno di quelli che esplodeva Muoio 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 tanto Porca puttana No voglio ritornare là prima Era là che era? Era qui? No era dall'altra parte Ma cosa difenditi? Ma Fammi andare a prendere l'arma qua Ma come è ancora bloccato? No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, aspetta, l'inventario lo posso mettere direttamente qua, ok. Ok. Qua c'è una cassaforte che non posso aprire. Non è che posso rompere... No. Chiave del tecnico PRAB. Oh, cazzo. Madonna. Merendina. Grazie. Ah, cazzo c'è... Non devo entrare in quell'acqua. Dammi coltello, dai, che è un po' più veloce. Tonica dica, ustica. Cazzo, una valvola manca. Questa è acqua, però, no? Potrebbe servirmi. Qua manca un fusibile... Questa la possiamo... Questa la possiamo... Questa la non è la... Questa la si lancia... Questa la si lancia... Questa la si... Si sparo... Ha ha To get medical Ok That's so Aia madonna ma come da la mi becca così Porca troia Eh vabbè tua mamma allora No non volevo Non volevo cadere Dentro al fuoco sono mortissimo Porca puttana è pieno di barili Devo stare attento Devo stare attento Ah intanto questo Ah è ancora sbaglio Ma dove sono scusa Mi sa la batteria Ah è quelli la Dov'è Cazzo ho avvento tutti i colpi C'è Ma che cazzo Ma dove va Palle ho Devo scendere ma esplode tutto qua Cazzo Madonna Cos'è Tubo d'acciaio Vabbè lo smontiamo 246 Potrei Ok Ok Ora livello 14 No Qualcosa c'è Mmm Il smello di Mh Il smello di Mh Qua c'è Qualcosa di figo Probabilmente Ma cosa potrebbe servire Questa Ma è Anche qua Ora non muo Ma che cazzo Oh esploso No Oh componente Quello mi serve Olè Cosa mi dai Chiave inglese Quanto fa male Questa chiave 247 42 Ok Sì Velocità Durata massima Questa non dura un cazzo Ok Ok Andiamo Perfetto Ah mi faccio male Cazzo Dao Vedi che serviva Ma ci devo passare Per forza Da lì Ok Non Ora Non Non Ora Ora Ara Ora Cos'è? Però voglio esplorarlo Questo Ecco Adesso 271 Però dura un po' di più Vabbè Chiave Ah, dall'altra parte Fanculo Queste non si aprono mai Non capisco Devo romperle Perché fa questo rumore? Non mi piace questo rumore No Come faccio ad andare di là? Oh C'è un modo per... Ah, devo entrare per forza Da lì Cazzo, guarda Cosa c'è là? O si può andare da lì? Fammi vedere No, non si può La mia persona Oh, madonna Che cazzo Che cazzo Mi sto avvicinando al cuore Oh, madonna Ti salvi più può Madonna Che cazzo è successo? Madonna Oh, madonna Madonna, ragazzi Sono tantissimi Ok Ok Questo lo ammazza 300 E mi sa che è tempo Di togliere il coltellino Anche se è velocissimo Però è veloce Cazzo 65 Il più veloce di tutti No, scusa Ho sbagliato 80 Cioè 35 20 Però cazzo Leva 300 Questa, raga Questa Beh, teniamola Ce l'acqua, dai Madonna Quanti sono Di là cosa c'è però Devo andare di là Ma magari qua c'è qualcosa Ah, vabbè Proiettili No Cazzo Scusate un secondo Ok, eccoci Guardate Cazzo Si sta rompendo del tutto Scusate 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 Quanti sono Cazzarola Oh, aspetta Ma è dove ero prima, no? Cazzo La, la, la Qua sotto c'è qualcosa Aspetta Hey, Danny è qui Doc Chiave inglese 2, 10 2, 47 Via Contiamo Scusate Questa si sta rompendo Mettiamo Quanto è lenta Questa 23 29 Ok Proiettili 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 Progetto anche Nuovo livello Buono, buono Allora Via Ripariamo Allora Facciamo già Questo qua Volevo Di che ce l'ho All Bom Arriva a 402 Quindi si, ok Chiave inglese Coltello Facciamo Eh, dove ho dei danni? Questa qua Io ho questa Ma Questa cos'era? Durata e forza Ma io ce l'ho citata Attacco Aumenta i danni Vai Perfetto 232 Eh, non posso più farli Che palle Beh, facciamo questo Dai Non so se cambia 3, 14 No, 3, 14 Beh, se contiamo Per questo Allora Facciamo danni Questi Aumenta di poco E No, niente Non ammette un cazzo Ok Basta Non posso più Fare nient'altro Ah Eh, fuoco Fuoco Che almeno Non rompo le palle Fuoco Fuoco Ok Questa quant'è? 3, 14 E velocità No 86 E gli ho messo Un massacro Neanche l'altro Però non ho neanche Un'ascia Allora, questa me la tengo Dai Ok Ah, aspetta Devo sistemare Ok Da andare di là Qua Proviamola Sta mazza Dov'è? Allora va Proviamo questa Cazzo Quattrocento Fa E abilitavo O bloccato qualcosa Sì, qua Ti piace Staccagliate Muntino non dorme Per recuperare salute Questa cos'era? Subito Subito Cos'è che devo levare? Oh Ok Ok, per fare danni Fa danni Ma questo lo userei Per quelli grossi Abbiamo questa Che è un po' più Ok Qua c'è qualcosa Non si può aprire Qui Serve fusibile Mi sa che lo devo prendere Come scambio Non lo so Un attimo raga Ok Eccomi Scusate Ecco Ti pareva? Non è un'illusione Non è un'illusione Non è un'illusione Oh cazzo Oh merda Cosa siamo? Mezzi umani Mezzi zombie In che senso? Oh merda Che cazzo succede? Che è successo? Pagli a pezzi Oh madonna Oh madonna Cosa succede? Flusso di sangue Ma lo voglio assolutamente Per accumulare furia Ok E come si attiva poi? Ah intanto Finalmente ho sbloccato Questa 301 Che è più forte Di questa insomma Però la voglio potenziare Prima Ok Accumula furia Uccidendo zombie Ed esegno Controattacchi Quando l'indicatore di furia è pieno Premi Eh Per accedere a metafuria Che stendere Tu mi fai a pezzi Tutto ciò che ti ostacola Raccoltabilità Eh sì ma Io c'ho Ah Ok Ok Qua cosa c'è Bloccato Che palle Tutto bloccato E la barra di furia Dov'è Cioè posso scegliere Se fare il contrattacco Ah è quella là Ok E' quella lì Del teschio Non vaffanculo Non vaffanculo Ok Ok Ho preso una Ok Ho preso una Ho preso una Scegliere Ho questa 301 Ah Oh Di nuovo Fammi caricare un po' le armi Ma va là Oh 25 Ciao 25 colpi di questa Via facciamo Madonna ma quanta vita Legno bruciato Legno bruciato Due addirittura 271 259 Durata massima Un cazzo No Dove via Ok Cazzo Non gli fa niente Oh raga Madonna Madonna Ok Adesso Dai che sei morta Oh un coltello Inventario 266 250 Vai Ok Poi lo potenzieremo Ok C'è un banco Da lavoro Da lavoro Perfetto Ci va di qua Ma qua c'è un banco Da lavoro Aspetta un attimo No Altro Progetto Certificante Ripetante A distanza Ok Ok Allora Questa Vabbè Vabbè Per questo Attacco Aumentare Aumentare Danni agli arti Aumentare Capitazione Che bisogna Questo Non so Aumentare la durata E la forza No Non lo so Cacchio Ah facciamo questo Che è un coltello Usiamo questo No Ok 255 Non era 260 Prima Forse devo mettere Durata E forza Vedere La cambia No 255 Però vabbè Durata e forza Danni agli arti No Danni agli arti Cazzo È un cazzo Di cosa Questo Non ho ancora niente Questo invece Posso farlo Aumentare i danni E Gli arti Non ci entra Un cazzo E colpito di retta Che bisogna Ti figurano danni Sicuramente Vuoto E li mettiamo Vedi che questo Ce l'ha Questo ce l'ha Questo no Però Come mai Mannaggia Vediamo qua Questo possiamo Mettere Questo dai E Aumenta la durata La forza Mi riduce La velocità Questo dai Ok Questo Finchè non mi dà No è giusto Questo gli ho messo Questo 402 Questo non ha niente Questo gliel'ho appena Modificato Andiamo 247 Questo è vuoto E gli mettiamo Questo 259 Va bene Va bene Questo è del 286 Vorrei potenziarlo Ma non riesco Non riesco ancora A potenziarlo 286 Rispetto a questo È più forte Quindi mettiamo Ah Nell'inventario Scusa Facciamo così Intanto Questo è 345 Un coltellino Lo vorrei Facciamo così Velocità 42 50 Perfetto A posto Ok Ci siamo Fammi vedere Quanto è veloce Ok Noi possiamo usare Intanto questo Vuoi raggiungere Venice Beach Yes L'abbiamo raggiunta Ok Andiamo Quanto siamo? Quanto siamo? Oh madonna Quanti autobus E quindi per ritornare in dito Madonna Poi se devo ritornare in dito Chissà quanta strada devo fare Aspetta C'era qualcosa No Quanto è veloce Nonna Quattrocentodue Quanto è veloce Velocità 13 Mamma mia Venice Beach Venice Beach Per riposarmi Oh cazzo No Ok Però di qua si può andare Dove si va di qua? Da qualche altra parte? Torne Tutti Non si può entrare Ok Magari qua c'è qualcosa Da prendere Ok Madonna Hey È una partita Scusate che sono lato Ehi 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 Quanto dura Quanto dura Ah ma non dura tantissimo Ok Ma dopo arrivo Fammi ispezionare qua Cazzo Cazzo Io vorrei andare là Ma non ci fa andare Ovviamente E non si può togliere L'acqua Che io voglio esplorare Vabbè Solo questa roba c'è Ma vaffanculo Dai Mori T'ho visto T'ho visto Ah Vaffanculo Ho capito Fammi ammazzare Un po' di questi Zombie Eccolo Aspetta che Ora quanti Cazzo Sono Ma proviamo a usare Questa Vediamo com'è Ma sai che Quasi quasi Tolgo il martello Anche se fa Tanti danni Che cazzo Ok Posso trasformarmi In zombie Raga Mi sa che tolgo Il martello Sapete Yes Aspetta Quale è più veloce Questo è più veloce Ok Ora mi serve Un altro banco Da lavoro Che voglio potenziarmi Al massimo Questa Ho un'altra Eh va bene No C'è meno Creppy Subito Madonna raga Quanti cazzo Di zombie Ci sono Se le faccio Mettere qua Durata massimo Nove Stai scherzando Bene Bene Tutti 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 è già morto Vuoi stare Zitta Zitta O no Madonna Madonna Qui del cancello No No Era qua Era qua Era qua Cazzo dov'è No No merda Me ne serve un altro Cazzo Sì ma non c'è Sì ma non c'è Non c'è la corrente Merda Devo prenderla da un'altra parte Cazzo Cazzo E come faccio Non ho Ma non va Vedi Vedi Non c'è corrente Se macchina Si può No Ma non va raga Non posso Manca la corrente Perché Quella che ho tolto Qua Mannaggia Me È sparito Da qualche parte Non so dove E non ce ne sono altre Dovrei trovare una macchina Col cofono aperto Eh no Perché quello è automatico E non posso andare avanti Raga Come faccio Eh devo Devo sal Devo salvare Vediamo Se mi salva Devo fare Tipo che cazzo Ne so Un inventario Spostare questo qua Che cazzo Ne so Rispostare Vediamo Se mi salva No Eh Cazzo Proviamo a tornare Al menu principale E scusate raga Mi si è buggata La missione Non so come mai Continua la partita Gioca Perché Non c'è più Il coso Per l'elettricità Quello è il problema Speriamo che mi faccia Ok Vedi che c'è adesso Prima non c'era Vedi 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 che Io l'avevo fatto Prima Si era buggato Quindi Chiudi il cance Cos'è Cos'è raga 274 Si ma Non dronno Niente a questi Cazzo Si sta rompendo Questo Rubane uno E Il problema Questo ce l'aveva Ce l'ha di nuovo Oh Vedi Solo che Era sparito Ok 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 Che palle Si ce l'ho fatta Vuoi entrare qua no Ma le posso Far esplodere Ok 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 Sì, grazie. Sono Kai. Scusate il messo. Sto facendo il mio migliore. Prendete, i ragazzi sono in là. Come va? Cosa, è Jack the Giant Slayer. È tutto il cuore. Ho spero. Chiedi a una trance speciale? Non ora, mi fa dormire. Non vedo più di più di voi, Alec. Non sono i miei smogli. Quanti volte? Benvenuti al blu crab. Benvenuti a restare. Abbiamo abbastanza di buoni davanti. Ci potremmo fare con le vostre, sai, tecniche. Ma non sei normale. Rude. E... spero che non è vero. Non posso. Sto facendo al hotel Stirling. Sto facendo al hotel. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai. L'area era militarizzata, mille, offensi in razor wire, checkpoints, and shit. Oh, yeah. Plus, la horde. Thousands of those ham brains trapped in the evac zone. Then there's the death pits. Death pits. Listen to you assholes. The death pits, the emo motherfuckers. This is so good, guys. Look, we got enough problems right here. Zompocalypse kicks off the weak of the strongman competition. And giant fucking roids so monsters everywhere. You know what I think? What? Oh, madonna. Eh, stava un po' bene. Beh, almeno era fatto, quindi ha sentito poco E poi c'erano tre Eh, eh Non prendo la mappa Questo lotto potrebbe usare tutta la giusta che si può avere Madonna, raga Oh, chi è questo? Ciao, è Emma Sto cercando di arrivare... Oh, questo è stupido Sto cercando Emma John, è tu? Ok, non ho bisogno di dire tutto il mondo che è me Occhè, volevo parlare con te sui amici di Michael Sto scusata, non hai bisogno di riuscire Ma l'ho fatto, se potessi trovare questa scuola nella nostra scuola Si, se non funziona Siamo benvenuti qui Sì, è decente di te, Emma Grazie Sto in contatto Ciao Salvataggio Salvataggio Ok raga, io vi lascio qua perchè anche qua quasi un'ora di registrazione Vi saluto e ci becchiamo alla prossima puntata Bella raga, mi sta piacendo molto sto gioco Ciao 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 Ciao